Però bisogna ringraziare per lo spirito che hanno messo i ragazzi. Su Pacchietà, su Baccaioco, sono robe che voglio parlare dentro il mio spogliatoio. Penso che vi spiego la motivazione. Ci ha messo 7-8 minuti per cambiarsi, per mettersi nastro adesivo, per mettersi i parastinchi. E ho fatto la scelta. Perché oggi penso che la priorità è la C-Milan. Sono i 27-28 giocatori che abbiamo in rosa. Non penso che ci può stare che io discuto con qualche giocatore. Nella mia carriera mi è capitato di mandare a quel paese un allenatore. Però dopo ho sempre, guardate negli occhi, ho sempre chiesto scusa quando ho sbagliato. E penso che in questo momento voglio parlare della mia squadra. Quello che ci diremo io e lui nello spogliatoio, e ci sentiranno tutti, saranno parole che ho fatti il giocatore. Non ho fatti il pescatore, però priorità alla C-Milan e a tutti i giocatori. Tire Lombardi.